Spunti di vista, parliamo della battaglia di Scandagallo e dell'associazione che organizza questa rievocazione storica, ma ne parliamo in modo forse un po' diverso dal solito, perché abbiamo qui una dotazione di apparecchi che permettono di fatto la riproduzione in formato, in visione modernissima, della stessa battaglia di Scandagallo, una sorta di ricostruzione storica che permette a chi indossa questi apparecchi di compiere un vero e proprio salto nella storia. Ne parliamo insieme con Alessio Bandini, che è il responsabile coordinatore degli eventi storici dell'associazione, e Mauro Bassi, che ne è il segretario. Bandini, ci eravamo visti l'anno scorso, avevamo parlato delle iniziative che stanno caratterizzando un po' l'attività della stessa associazione. In questo caso possiamo dire che la tecnologia viene in vostro aiuto? Possiamo dire così? Sì, sicuramente la tecnologia viene in aiuto della storia in generale, perché questo prodotto che abbiamo realizzato insieme alla ditta di Milano e insieme al comune di Marciano della Chiana, inizialmente e poi sviluppato da noi in modo autonomo, è sicuramente un dispositivo che consente al pubblico di apprezzare la storia. Nel nostro caso specifico offriamo un prodotto per il quale si può entrare in prima persona all'interno della battaglia di Scanagata. Quindi vi ponete tra storia da una parte e modernità dall'altra? Modernità intesa addirittura come futuro, intendo, perché il futuro della storia può essere proprio la possibilità di viverla in prima persona, in modo da dare la percezione veramente di chi vive il fatto di presenza. È questa, la presenza proprio che caratterizza questo apparecchio. Ecco, la storia passa, il tempo scorre. Mauro Bassi, segretario dell'Associazione Scannagallo. La vostra associazione, direi, si è affermata sempre di più col passare degli anni, perché siete nati, se non sbaglio, alla fine degli anni 90? Siamo nati nel 2002. Nel 2002 vi siete costituiti, però già alcune attività venivano svolte anche prima, se non sbaglio. Onestamente la situazione reale, l'Associazione come rivocazione tutta è nata nel 2002. Ne parlavamo anche gli anni prima, però come struttura e come eventi, come complesso, siamo partiti nel 2002. Come è strutturata adesso l'Associazione? L'Associazione è strutturata, abbiamo un Presidente, un Vicepresidente, tesoriere, segretario e il Consiglio. E più abbiamo Alessio Bandini, che è il nostro gestore eventi. Vostro gestore eventi, fra l'altro Alessio ha ricoperto anche altri incarichi, se non sbaglio, in passato all'interno dell'Associazione. Allora, nell'Associazione sì, sono Stato Presidente, segretario, ho fatto un po' di tutto, ma ricopro tuttora il ruolo di membro del Comitato Storico della Regione Toscana. Quindi c'è un riconoscimento anche a livello istituzionale, voglio dire, che è importante per la vostra attività, credo. La nostra associazione, in particolar modo, fa parte delle 25 selezionate dal Ministero della Cultura a rappresentare il campione di rievocazioni su 1.400 in Italia, che hanno le caratteristiche storiche e demo-etro-antropologiche più coerenti con le specifiche richieste dal Ministero. Ecco, Alessio, l'attività, ovviamente la rievocazione della battaglia di Scannagallo è l'evento principale, però voi non siete soltanto impegnati in questa rievocazione, perché la vostra associazione, direi, spazia un po' anche in diversi anni. Sì, quello che cambia tantissimo è che non facciamo solo rievocazione, facciamo anche cultura, ricerca delle fonti e sviluppo di strumenti come questi, che non hanno solo una valenza storica o ricreativa, ma hanno anche, l'abbiamo inserito pure nel progetto con il quale abbiamo realizzato, perché abbiamo vinto un bando del PNRR per questo strumento. Questo ha permesso il finanziamento di questo progetto. Il visore consente, in particolar modo a un disabile o a un ipodivedente, di partecipare in prima persona agli eventi, ma soprattutto di visitare luoghi per i quali altrimenti la presenza sua fisica sarebbe impossibile a causa dei limiti delle barriere architettoniche. Poter accedere, faccio due esempi banali che sono sul territorio, al tetto, alla torre di Marciano, è impossibile perché chiaramente la torre, per ragioni storiche, non è dotata di un elevatore che può portare una persona disabile sino in cima. O il tempio di Santo Stefano, parimenti, nel comune di Foiano della Chiana, è situato sulla collinetta, a ridosso del cimitero, e quindi l'accesso è veramente precluso a chi ha problemi di ambulazione. Questo strumento consente, l'ha provato, lo può dire, di vivere l'esperienza in modo diretto. Non è un filmato per il quale lo vedi in televisione, vedi un documentario. Ti trasporti lì realmente. In più, e questo grazie a Jonathan Salvetti, l'assessore del comune di Marciano della Chiana, tra l'altro per professione si occupa di questi strumenti, presso la torre di Marciano ci sono due coppie di guanti attici che consentono anche sulle mani di rivivere alcune sensazioni. Praticamente lo strumento ha dei sensori sui polpastrelli delle mani e con una diversità di conduzione elettrica superficiale ti fa sentire più o meno le sensazioni di quello che stai facendo. Questi quando saranno in parte, sono stati anche già utilizzati, sono stati anche già presentati, quando saranno impiegati concretamente? Ci saranno dei momenti in cui sarà possibile vedere la battaglia di Scannagallo attraverso questi dispositivi? Allora, questi dispositivi sono fatti di un progetto anche più ampio perché tre li abbiamo noi, tre li abbiamo all'archivio di Stato di Siena, tre sono già al comune di Marciano della Chiana nella Torre e altri tre sono in produzione in settimana, quindi questa è una novità che anticipo, non se ne abbia il sindaco di Cortona ma li daremo anche per un progetto a Cortona relativo alla giostra dell'archidado. Tutti questi quattro situazioni che abbiamo, che ho elencato, faranno parte di una rete perché all'interno dei visori si possono vedere in ogni luogo tutti gli altri luoghi e questo è il termine del progetto, è il 31 dicembre di quest'anno e dal 1 gennaio proveremo a espandere ancora ulteriormente la rete, quindi è un sistema non solo di aiuto ai disabili come dicevamo o di partecipazione per le scuole e per i ragazzi, che si sentono veramente coinvolti nel momento in cui vedono questo strumento e lo utilizzano, ma anche a livello di promozione del turismo. Nel bando stesso c'era proprio la dicitura di promozione del turismo marginale e degli archivi storici. Ecco, che è possibile appunto anche attraverso questi apparecchi riuscire a soddisfare. Mauro Bassi, dal punto di vista strutturale dell'associazione, per voi se non sbaglio si avvicina il tempo delle elezioni o ci sono già state? No. Ecco, si avvicinano. Il Consiglio è in scadenza, il 2025 verranno indette le nuove elezioni e verrà a questo punto nominato il Presidente e tutto il Consiglio. Ecco, quindi che prospettive ci sono tutto sommato? L'impressione dell'attività sia stata portata avanti nel migliore dei modi, di solito in casi del genere si va verso una riconferma, no? L'impegno è importante, soprattutto perché sono stati attivati dei progetti, quindi è necessario dare seguito poi magari a questi progetti. La continuità andrebbe garantita, però ci sono impegni, tutti abbiamo degli impegni estrafamiliari, sono pesanti perché l'associazione si è allargata, i progetti sono tanti. Si è allargata moltissimo in effetti. Si è allargato moltissimo e siamo a questo punto riconosciuti anche sia a livello ministeriale che regionale. E poi sappiamo quanto sia impegnativo in una regione anche come la Toscana, dove il campanilismo è presente in qualsiasi ambito della vita civile. Comunque mi sembra che sia stata bene accettata anche, voglio dire, c'è questo scambio interprovinciale a Rezzo-Siena, no? Sì, molto. A Rezzo-Siena e da un po' di anni anche Perugia. Veniamo da una manifestazione in Umbra ieri, sempre del rinascimentale, e si stanno sviluppando le tasse che fa Perugia-Rezzo-Siena molto importanti, chiaramente senza dimenticare Firenze, che è la culla del rinascimento. Ma d'altronde un po' i tempi cambiano, il campanilismo permane e permarrà ancora per chissà quanto tempo. Però ecco, quando è possibile si cerca anche di trovare delle soluzioni comuni, no? Intendo dire, a vantaggio anche dello stesso territorio nel quale l'associazione opera. Sì, a questo punto bisogna che venga fatto un mutuo utilizzo, diciamo anche comuni che cerchino di unirsi e per poter portare avanti un progetto comune che è per tutti. Alessio, me la passi per piacere uno di questi apparecchi che ho provato prima, senza anche bisogno di infilarlo. Comunque, per quello che riguardano i comuni, è importante, ve lo diceva Mauro, perché in particolare al modo sul nostro territorio, il Comune di Foiano della Chiana, ho il Sindaco Iapo Franci e con quello di Marciano, ho il Sindaco Maria De Palma, stiamo portando avanti il progetto proprio dei visori e delle manifestazioni congiunte, è importante. Allora, dobbiamo dire, lunga vita all'associazione Scannagallo, la quale si inserisce in un percorso rievocativo dal punto di vista storico, ma anche evidentemente aperto alla modernità, con questi nuovissimi apparecchi. grazie davvero ad Alessio Bandini, coordinatore responsabile degli eventi storici dell'Associazione Culturale Scannagallo, e Mauro Bassi, che ne è il segretario. Grazie per essere stati qui insieme con noi. La linea per il momento può tornare alla regia. Grazie. Grazie.